buongiorno possiamo venire a portare le coperte al canile la voce è quella di un bambino di sei anni di luca da san pietro altanagro ed è stata raccolta da sebastian e antonella marito e moglie che gestiscono il canile di polla è stata una vera e propria sorpresa ma poi è stata anche presa in considerazione questa chiamata del piccolo luca un affetto verso i cani davvero incomiabile il piccolo luca campiglia di sei anni il prossimo 31 dicembre è innamorato per i cani un amore che è nato ed è stato trasmesso dalla mamma carla ben in casa e che ha colpito il bambino sin da piccolo mamma e figlio e anche famiglia intera alcolgono e salvano diversi cagnolini e quando con l'avvicinarsi del prossimo natale il piccolo luca ha visto arrivare il freddo ha pensato di fare un regalo speciale per i pelosi come li chiama lui dell'oasi felix occorre dire che il canile di polla cura con amore e affetto gli animali e per fortuna non c'è bisogno di ulteriori elementi per riscaldare i cani ma antonella e sebastian non se la sono sentita di dire di no al regalo speciale di un bambino altrettanto speciale